La prima domenica di ogni mese, nel centro storico di Cagliari e dintorni, si tiene la mostra mercato in cui gli appassionati possono trovare non solo antiquariato, ma anche oggetti di collezionismo, curiosità, prodotti dell'artigianato locale e anche modernariato. Sulle bancarelle è possibile ammirare e acquistare mobili, stampe, francobolli, specchi, cornici, lampade, gioielli e oggetti sacri.